Si svolgerà domani mattina presso il Parco della Scienza a Teramo il Consiglio Comunale straordinario con al centro il tema della ricostruzione, alla presenza del Presidente regionale Giovanni Lolli, il Direttore dell'USR Marcello D'Alberto e i parlamentari del territorio. Una seduta convocata per cercare di fornire risposte concrete ai cittadini che ancora non sono rientrati nelle loro abitazioni dopo il sisma. Verranno anche formulate precise richieste riguardanti le risorse disponibili, il rientro almeno nelle abitazioni classificate in categoria B, gli interventi per l'edilizia popolare e i dettagli sulla ricostruzione stessa. C'è la necessità di un intervento a livello governativo perché è necessario trovare una soluzione a questo problema di stallo, questa situazione di stallo che si è venuta a creare per quanto riguarda la ricostruzione del terremoto 2016-2017. La situazione non è più sostenibile, abbiamo già avuto un primo incontro con il sindaco e i capigruppi, con il commissario Farabollini dove abbiamo esposto quelle che sono le nostre problematiche, ma è necessario e sufficiente che anche i nostri parlamentari abruzzesi siano benedotti di quella che è la situazione reale del nostro territorio perché riteniamo che sia in apportante un intervento legislativo a livello nazionale. Non ci sono risultati eclatanti fino ad oggi, dopo due anni solamente pochissime pratiche sono giunte a termine. È un cratere particolare, non possiamo paragonarci alle marche, le marche hanno le macerie a terra, quindi le case sono a terra, è una ricostruzione diversa. La nostra è una ricostruzione molto più semplice, è una ricostruzione dove bisogna solamente svolgere le pratiche, purtroppo fino ad oggi non è stato fatto, abbiamo speso quasi 70 milioni di euro per mantenere le persone dentro casa o in albergo, fuori casa o in albergo e purtroppo senza aver ricostruito nulla. Questo è quello che andremo a chiarire domani, ma soprattutto portiamo anche delle soluzioni, come si può migliorare questa situazione.